Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo alcuni piccoli accorgimenti che possiamo adottare per migliorare esteticamente i nostri grafici a mappa. Se vi vuoi interessare, ho trattato le mappe di Excel nel video numero 30 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. I semplici consigli che vi darò potranno essere utilizzati anche per gli altri tipi di grafico, oppure in altri ambiti di utilizzo del software. Iniziamo! Vi ricordo che, quando nel video sulle mappe di Excel abbiamo rappresentato l'Europa, si sono evidenziati questi due piccoli problemi. La mappa è decentrata a causa delle isole spagnole e portoghesi nell'Atlantico, ed inoltre è presente questa scritta in basso a destra. In aggiunta, se ad esempio dovessimo rappresentare solamente alcune province del nord Italia, appartenenti a due regioni diverse, la cartina visualizzerebbe tutta l'Italia e, se visualizzassimo solamente le aree con dati, avremmo qualche problema a identificarne l'area geografica di riferimento. Ad esempio, qui nella cartina di destra, la provincia di Pavia ha una forma molto simile a quella dell'India, e quindi si fa molta fatica a capire che quest'area geografica comprende le province della Lombardia e del Piemonte. Vediamo ora come possiamo aggirare queste piccole imperfezioni. Innanzitutto, quando si vogliono rappresentare dati geografici mediante una mappa, è di fondamentale importanza selezionare l'area mappa più opportuna. Vi voglio ora mostrare tutte le opzioni disponibili. Vogliamo rappresentare la provincia di Bergamo. Per opzione predefinita, Excel ci rappresenta solamente la provincia di Bergamo. Cliccando due volte su di essa, possiamo far comparire la wizard qui a destra che ci permette di selezionare l'area mappa. Selezionando questo menu a discesa, possiamo scegliere Solo aree geografiche con dati, che ci permette appunto di visualizzare la provincia di Bergamo. Evitiamo di utilizzare Contea, poiché probabilmente si riferisce alla suddivisione territoriale presente negli Stati Uniti. Stato-Provincia, che ci permette di visualizzare la provincia di Bergamo all'interno della Lombardia. Paese-Area Geografica, che ci permette di visualizzare la provincia di Bergamo all'interno dell'intera Italia. Più Paesi-Aree Geografiche, che ci permette di visualizzare la provincia di Bergamo all'interno dell'intero continente europeo. Ed infine, Mondo, che ci permette di visualizzare l'intero planisfero e che è utile solamente quando si vogliono rappresentare le nazioni all'interno del globo, ma sicuramente non è adatta per le province. Quindi, il primo passaggio fondamentale è quello di selezionare l'area mappa più adatta per i nostri dati. A questo punto, dobbiamo riuscire a eliminare la scritta che compare qui in basso a destra. Il modo più veloce è senz'altro quello di coprirla mediante una forma. Clicchiamo dunque su Inserisci, andiamo in Illustrazioni e scegliamo Forme, selezionando successivamente un rettangolo. Disegniamo ora il rettangolo e nel tab Formato forma, che di solito è già selezionato, selezioniamo Riempimento forma, di colore bianco e successivamente clicchiamo su Contorno forma e selezioniamo di nuovo il colore bianco. Ora non ci resta che coprire la scritta mediante il nostro rettangolo bianco. Come si può notare cliccando all'esterno, la scritta non è più visibile. Per completare l'opera, possiamo ora selezionare i due oggetti, la forma ed il grafico, cliccando sul suo bordo mantenendo il tasto CTRL premuto, cliccando poi col tasto destro preferibilmente sulla forma e selezionando Raggruppa e successivamente ancora Raggruppa. Ora possiamo trascinare il grafico per il suo bordo oppure cliccando sulla forma e trascinando i due oggetti contemporaneamente. I due oggetti ora sono raggruppati e si comportano come un'unica entità. Questo si rivela il metodo più veloce, ma non ci permette di centrare le cartine all'interno dell'area del grafico. Vediamo ora come si procede quando si vogliono visualizzare solamente le aree che ci interessano, centrandole all'interno dell'area del grafico. In questa tabella ho riportato i dati relativi a sei province della Lombardia e a due province del Piemonte. Per opzione predefinita, Excel rappresenta i dati su tutta la cartina d'Italia. Come possiamo notare cliccando due volte su una qualsiasi regione d'Italia, Excel ha utilizzato come area mappa automatica Paese area geografica. Possiamo però selezionare solo aree geografiche con dati, ottenendo così la cartina che ho visualizzato qui a destra, ma che non ci aiuta assolutamente a capire in che zona d'Italia si trovino queste province. Sarebbe più utile visualizzare i dati nella cartina che adesso vi mostro. Come si può notare, ho visualizzato solamente il nord-ovest d'Italia, in cui sono visibili la Lombardia, il Piemonte ed altre regioni limitrofe. Come si può fare a ottenere una cartina di questo tipo? Innanzitutto, vi faccio presente che questo non è un grafico, bensì un'immagine. Cliccando su di essa, possiamo notare qui, in alto, che compare il menu Formato Immagine. A questo punto qualcuno potrebbe obiettare, poiché un grafico è dinamico, mentre un'immagine è no. Ma premendo il tasto F9, siccome ho impostato la tabella con valori casuali, ci accorgiamo che, sia il grafico a destra che l'immagine qui a sinistra, cambiano in corrispondenza dei valori inseriti in tabella. Qual è allora il trucco? Ora ve lo svelo. Io mi sono posizionato in una zona del foglio di lavoro distante dai dati, e precisamente nella cella AA52. Ho poi ingrandito tale cella, sia in orizzontale che in verticale, e a questo punto posso andare all'interno della cella mediante le frecce. Ho poi creato e formattato un grafico Excel. Questo è un grafico vero e proprio, come si può notare dai tab qui in alto. Dopo aver creato il grafico, l'ho posizionato proprio sopra la cella AA52, in modo che le aree del grafico con i dati si trovassero proprio all'interno di tale cella. A questo punto ho cliccato in una cella del foglio di lavoro, e mediante le frecce sono andato in AA52. Ho poi copiato il contenuto di tale cella mediante il comando da tastiera CTRL-C, mi sono spostato in un'altra zona del foglio di lavoro, e col tasto destro ho cliccato su questa freccetta che compare accanto a Incolla speciale, ed ho selezionato Immagine collegata. A questo punto, quest'immagine è collegata ai dati del grafico, e quindi quando il grafico di origine cambia, cambia anche l'immagine. Il vantaggio di un'immagine di questo tipo è l'aggiornamento automatico in base ai dati inseriti in tabella. Inoltre, un'immagine può essere ritagliata. Vi mostro ora le tre opzioni che utilizzo più frequentemente. Innanzitutto, nel menu Formato Immagine, clicco su Ritaglia, e utilizzando queste maniglie di selezione, che si presentano sui bordi dell'immagine, riduco l'immagine in modo da rappresentare solamente i dati che mi interessano. A questo punto, posso utilizzare un qualsiasi stile immagine, ad esempio questo, per poi ritagliare l'immagine magari mediante un'altra forma, un rettangolo con angoli arrotondati. In questo modo, ho ottenuto quello che a prima vista sembrerebbe un grafico dinamico, ma che in realtà non è altro che un'immagine collegata. Posizionandola ora accanto alla tabella di origine, ingrandendola e premendo successivamente il tasto F9, possiamo notare come l'immagine cambia aspetto al cambiare dei dati in tabella. Se volete, poi, potete sbizzarrirvi applicando nuovi stili, ad esempio questo, oppure ritagliando l'immagine utilizzando altre forme, anche se quella che ho scelto ora non è sicuramente la più adatta. Un altro modo di procedere quando si vuole nascondere la scritta qui in basso a destra è il seguente. Si può allungare verso il basso l'area del grafico, in modo che la scritta venga isolata dalla cartina. Si può poi selezionare l'area del foglio di lavoro contenente il grafico, digitare CTRL-C in modo da copiare tale area, selezionare una cella del foglio di lavoro e incollare come immagine collegata e successivamente cliccare sul pulsante Ritaglia e ritagliare le parti del grafico che non ci interessano, in modo da eliminare la scritta. A questo punto si può applicare un bordo qualsiasi e il gioco è fatto, ad esempio un bordo di colore nero e nessuno si accorgerà più della differenza tra l'immagine ed il grafico. Vi ricordo però che l'area che si vuole copiare e incollare come immagine collegata deve essere situata in una parte non visibile del foglio di lavoro, poiché ad esempio se io portassi l'immagine del cuore sulla mia area del grafico, il cuore comparirebbe anche nell'immagine collegata. Dunque ricordatevi di posizionare i vostri grafici che volete copiare e incollare come immagine collegata all'esterno dell'area visibile del foglio di lavoro. Vi voglio ora mostrare alcune applicazioni delle tecniche viste finora. In questa prima tabella ho rappresentato i dati relativi alle regioni del nord Italia. Ovviamente Excel rappresenta tutta l'Italia, evidenziando le regioni del nord con colori differenti. Sarebbe più utile però visualizzare solamente il nord Italia, come ho fatto in questo esempio. Anche in questo caso si tratta di un'immagine collegata. Oppure potremmo utilizzare queste immagini più pittoresche in cui ho utilizzato gli stili immagine. Si tratta sempre di immagini collegate che cambiano esteticamente al variare del valore dei dati presenti in tabella. Come si può notare qui in basso a destra, ho creato due grafici in questa zona. Ho copiato la cella AA52, ho incollato come immagine collegata e poi ho ritagliato le due immagini che vi ho mostrato in precedenza. Sempre utilizzando le stesse tecniche, ho visualizzato la cartina della Lombardia senza la scritta qui in basso, coperta come ho detto in precedenza da un rettangolo di colore bianco. Ho visualizzato la cartina d'Italia sempre senza la scritta ed infine anche la cartina d'Europa a cui ho tolto le isole presenti nell'Atlantico e che ho centrato nell'area di disegno. Infatti, se selezionassi un qualsiasi bordo immagine, ad esempio questo, si può notare come la cartina sia perfettamente centrata nell'area di disegno, mentre la cartina originale, come si può notare qui in basso, è decentrata verso destra, presenta le isole dell'Atlantico e anche la scritta qui in basso. Come si può notare, questa è un'immagine, ma premendo il tasto F9 si può notare come si tratti di un'immagine collegata. Come ultima cosa, vi voglio mostrare anche l'utilizzo delle immagini collegate per rappresentare gli intervalli di dati, anziché i grafici. Selezioniamo dunque il nostro intervallo di dati e copiamolo mediante la combinazione di tasti CTRL-C. Clicchiamo ora il tasto destro in una qualunque cella del foglio di lavoro e incolliamo come immagine collegata. A questo punto sarebbe utile non visualizzare la griglia del foglio di lavoro, ma questo problema può essere risolto anche colorando di bianco le celle. Proviamo infatti a selezionare la nostra immagine e ad utilizzare un qualunque stile immagine, ad esempio questo. Come si può notare, l'immagine appare sfuocata e non è ben visibile, ma non appena selezioniamo la tabella ed applichiamo come colore di sfondo il colore bianco, anche l'immagine diventa più nitida. Siccome nella tabella ho utilizzato valori casuali, premendo il tasto F9 i dati si aggiornano e anche l'immagine collegata si aggiorna di conseguenza. Ora possiamo spostare questa tabella in una parte non visibile del foglio di lavoro in modo da visualizzare ed eventualmente stampare solamente la nostra tabella collegata. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di note e commenti. Vi aspetto. Ciao!